Ah bello, ciao Salvo, guarda che con questa uscita tu spacchi, tu spacchi, te lo dice uno stupido guarda, non capisco un cazzo, voglio dirti che spacchi. Allora si vede una maturità anche perché come ti ho sempre detto e apprezzato c'è sempre stato contenuto nei tuoi testi, però c'è una maturità maggiore in questo ultimo album. Grazie a tutti.